carissimi amici ben ritrovati all'eremita dei sette nodi col dialogo odierno cercheremo di riprendere di riallacciare quel discorso attorno quel ragionamento quelle riflessioni attorno a quel ricco simbolismo rappresentato dalla camera annunziale celeste per questo io vi invito a iscrivervi al canale e andare a ricercare le lezioni le riflessioni precedenti oggi analizzeremo due logion il 66 e il 67 perché come vi ricordate abbiamo deciso di procedere passo passo e quindi di affrontare tutti i logion presenti nel Vangelo di Filippo e purtroppo mi rammarico del fatto che il logion 66 il capoverso 66 è menomato cioè è giunto a noi parziale poi è stato colmato cioè questa manchevolezza è stata colmata da diversi commentatori da diversi traduttori ma il problema di fondo è che ma è mancante di alcune parole di alcune frasi che in qualche modo rendano difficile rendano dubitativa una un'interpretazione più o meno autentica allora iniziamo a dare lettura di questi due logion 66 l'anima e lo spirito sono entrate nell'esistenza dall'acqua dal fuoco e dalla luce che il figlio della camera noziale puntini 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 perché è mancante di alcune parti termina la frase e si riprende il fuoco è il fuoco è il crisma la luce e il fuoco io non parlo di questo fuoco che non ha forma ma dell'altro la cui forma è bianca che è fatto di luce e di bellezza e che dà bellezza criptico ma non troppo allora iniziamo l'anima e lo spirito nell'ognosticismo storico abbiamo una macro tripartizione abbiamo il corpo abbiamo l'anima e abbiamo lo spirito e ognuno di questi è frutto di un diverso agente plasmante il corpo il corpo carnale nelle sue varie articolazioni nelle sue varie componenti abbiamo visto che opera degli arconti degli angeli e dei demoni sottoposto al dominio al governo degli arconti stessi ognuno di loro ha modellato ha plasmato qualcosa questo l'abbiamo affrontato nella lezione gli arconti fecero l'uomo l'anima l'anima per la scuola barbelotiana è anch'essa composita perché abbiamo un'anima che è l'anima psichica che è sicuramente infusa dal demiurgo poi abbiamo delle particole di metallo che noi sette particole di metallo che sono associate ai sette pianeti che sono associate ai sette arconti e che rappresentano quelle tendenze quel magnetismo che ci lega alle cose di questo mondo noi sappiamo che sette è un numero molto importante perché rappresenta fondamentalmente le regole che governano questo piano sette le note, sette colori, sette giorni della settimana, sette vizi, sette le virtù e via 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 discorrendo tutto è sette sette nasce dall'incontro del quattro e del tre il quattro rappresenta il quaternario, i quattro elementi che formano questo piano manifestativo la terra, l'acqua, il fuoco e l'aria il tre rappresenta la manifestazione divina il quattro e il tre si incontrano e dal loro incontro nasce il sette nasce queste sette ferree leggi esiste per la scuola barbellotiana anche un altro elemento componente l'anima questo elemento è stato infuso dall'uomo dalla dalla sofia o in altre scuole da un altro eune del clerova e questo è l'anima spirituale che nel Vangelo di Filippo è chiamata lo spirito poi procediamo e vediamo che comunque ci sono alcune sottigliezze l'anima e lo spirito sono entrati nell'esistenza cioè in questo piano manifestativo esistenza intende questo dall'acqua, dal fuoco e dalla luce ora stiamo ben attenti perché non è detto che l'anima e lo spirito sono entrati in ugual misura dall'acqua, dal fuoco e dalla luce no, sono entrati per mezzo di questi l'anima è entrata attraverso l'acqua e lo spirito è entrato dal fuoco e dalla luce l'anima è associata all'acqua l'anima è un elemento legato all'acqua è un qualcosa di legato all'acqua perché l'anima fondamentalmente si associa a tutto a quanto è frutto delle interazioni interiori ed esteriori l'anima è mutevole l'anima deve nutrirsi l'anima deve manifestarsi l'anima deve apprendere è come l'acqua è uguale e mutevole l'acqua può cambiare di forma come l'anima cambia di forma attraverso cosa attraverso l'alimentazione l'alimentazione dell'anima l'alimentazione delle impressioni e attraverso il lavoro il lavoro preso alla trasmutazione di quelli che sono i corpi lunari in corpi solari lo spirito invece viene dal fuoco e dalla luce il fuoco il fuoco centrale il fuoco spirituale il quinto elemento l'elemento trasmutativo anche qua il calore su questo piano è quello la presenza del calore o l'assenza del calore che determina i cambiamenti di stato ghiaccio sottoposto a calore diventa acqua l'acqua senza calore sottoposta a basse temperature diventa solida pensate poi al legno sottoposto all'azione del calore diventa aria e lascia dei residui il fuoco spirituale il quinto elemento da non confondersi quindi con il fuoco del quaternario invece quale funzione ha non ha più la funzione di cambiare lo stato delle cose lo stato materiale delle cose ma di trasmutarle di portarle ad un livello chiamiamolo livello vibrazionale più alto la luce è invece lo sappiamo nel linguaggio gnostico la conoscenza quindi lo spirito questo spirito che discende viene dal fuoco spirituale e dalla conoscenza che il figlio della camera nuziale puntini 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 per me riceve per me accoglie ma accoglie anche l'anima ebbè si accoglie anche l'anima ovviamente è un'anima purificata attraverso proprio l'azione dello spirito il fuoco vedete l'importanza è il crisma che cos'è il crisma il crisma è l'unzione attraverso cui si amministrano alcuni sacramenti vi ricordate che cosa vi ho detto all'inizio la camera nuziale celeste è un insieme simbolico una narrazione che noi possiamo leggerla attraverso e solamente attraverso due chiavi di lettura una chiave sacramentale quindi religiosa quindi sacerdotale e una chiave squisitamente iniziatica perché il Vangelo di Filippo afferisce alla scuola valentiniana e la scuola valentiniana era una scuola che parlava di iniziati cioè a persone che erano state dotte ad un determinato frasario e a determinati stilemi e che avevano accettato una determinata impostazione che era una impostazione non tanto e non solo non tanto di rottura nei confronti di quella che poi era la normale o lineare narrazione cristiana d'altro canto ricordiamoci che Valentino concorse a divenire vescovo di Roma quindi ma quindi non poteva fondamentalmente portare avanti un'impostazione come dire rigidamente dualistica come ad esempio i berbelotiani ma era un qualche cosa un attimino di più articolato di più pragmatico di più indistinto ecco di riservato a coloro che avevano la possibilità di andare oltre il significato apparente delle parole la luce e il fuoco cioè il fuoco e la luce malgrado abbiano funzioni diverse sono associate io non parlo di questo fuoco continua che non ha forma perché non ha forma perché il fuoco spirituale il quinto elemento non ha forma e non ne possiamo parlare perché non ne possiamo parlare perché è un accadimento che si traduce in un'esperienza super sostanziale che non è conseguibile e che non è attinente a questo piano quando ne parliamo siamo già fuori da quell'ambito di pertinenza e quindi non è fattivo non abbiamo gli strumenti adeguati c'è un bellissimo romanzo un giorno ci facciamo un bel dialogo che ne dite che si chiama Flatland dove praticamente abbiamo se ben ricordo un cerchio quindi una figura bidimensionale che sperimenta che sperimenta altri due piani manifestativi un piano monodimensionale e un piano invece tridimensionale orbene mentre quando torna riesce seppur malamente a spiegare il piano monodimensionale sicuramente quando torna dal piano tridimensionale torna sul proprio piano manifestativo sulla propria dimensione manifestativa fatta da due dimensioni scusate la ridondanza e si trova su astanti ha delle difficoltà delle difficoltà perché gli mancano gli strumenti comunicativi da un lato quindi non riesce a tradurre l'esperienza in comunicazione e dall'altro gli astanti non avendo neanche maturato si fatta l'esperienza dicono ma questo è pazzo ma questo di che parla quindi se noi non possiamo e quindi cogliere quello che è il fuoco trasmutativo non possiamo e d'altro canto chi lo ha colto non ha gli strumenti per comunicarcelo e infatti lui non ne parla lui ti dice non ha forma la forma è importante su questo piano amici miei perché è attraverso la forma che noi ci relazioniamo alle cose tutte e anche alle cose che sono poste dentro di noi perché in qualche modo anche quando andiamo noi a praticare interiormente noi ci noi focalizziamo noi radichiamo le nostre energie i nostri pensieri la nostra opera in macrozone in corpi diamo una forma all'elemento che desideriamo curare che desideriamo nobilitare o che desideriamo ridurre in qualche modo in polvere cosmica oppure che desideriamo trasmutare diamo una figura immaginifica a quelle che sono i nostri avversari e quant'altro quindi la forma è importante la forma ci permette di manipolare ci permette di relazionarci perché siamo su questo piano la cui forma è bianca scusatemi quindi di quello non ne parla ma parla dell'altro dell'altro fuoco la cui forma è bianca parla di quanto può essere percepito di quanto può lui stesso comunicare parla dell'immagine che su questo piano possiamo cogliere ovviamente all'interno di una data esperienza spirituale o di ampliamento della coscienza in questo caso dettata e frutto di ciò che si compie all'interno della camera noziale celeste ecco allora lì riusciamo a percepire questa immagine questa immagine è bianca perché è bianca perché bianco è il colore della plenitudine divina della pienezza il bianco riassorbe tutti i colori in questo caso il bianco riassorbe tutte quelle qualità di cui l'uomo deve di quelle qualità divine di cui l'uomo si deve riappropriare e che è fatto di luce perché è un fuoco che porta la conoscenza e quindi se porta la conoscenza è anch'esso conoscenza è anch'esso luce la luce come illuminazione qui è semplice il simbolismo che inrompe e che ci libera dalla notte dell'ignoranza ma è anche bellezza perché perché le cose di questo mondo per l'ognostico non sono belle ma non sono belle perché sono vacue perché sono transuenti perché sono soggette a decadere quindi non hanno in sé la bellezza che è una qualità assoluta una qualità architipale questo fuoco che è pur sempre uguale a se stesso che raccoglie in sé la luce è quindi bello e non solo è bello da anche la bellezza questo è il logion 66 un logion che spiega o che cerca di spiegare che cosa accade all'interno della camera della camera annunziale celeste a colui che è figlio della camera annunziale celeste cioè colui che nasce figlio colui che nasce all'interno all'interno del ventre di questo ventre spirituale quindi colui che ha fatto tutto questo processo che è questo figlio è l'uomo nuovo è l'uomo che ha beneficiato dell'azione del fuoco spirituale del fuoco trasmutativo che gli ha donato la luce che gli ha donato la conoscenza e che gli ha donato la bellezza cioè la perfezione archetipale mi rendo conto fondamentalmente che l'analisi di questo logion ci ha in qualche modo assorbito per una ventina di minuti essendo il prossimo il 67 anch'esso colposo di riflessioni credo che sia maggiormente opportuno affrontarlo in un prossimo dialogo quindi al momento vi saluto vi do sempre appuntamento su questo canale che spero abbiate la bontà di sottoscriverlo a presto ritrovarci a presto di